Il presidente del Consiglio regionale abruzzese, Nazario Pagano, è stato eletto presidente della conferenza dei parlamenti regionali europei. La CALRE, questo l'acronimo, raggruppa i parlamenti regionali dell'Unione Europea che dispongono di poteri legislativi. In tutto si tratta di 74 regioni facenti parte di 8 paesi. Tali regioni rappresentano insieme 200 milioni di abitanti. L'insediamento ufficiale avverrà a partire dal 1 gennaio 2011. L'importanza sicuramente ma anche impegno perché è ovvio che l'elezione nella mia persona in qualità tra l'altro di presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo è giunto forse inaspettato, ho tenuto conto del ruolo che storicamente ha sempre avuto l'Abruzzo in Europa. Si tratta di 74 regioni dalla Scozia fino alle isole Canarie, 200 milioni di persone rappresentate che vivono in queste 74 regioni. Devo dire che sono davvero orgoglioso di poterle rappresentare. Sfida e impegno perché nel corso del 2011 noi dovremmo fare in modo non solo di far sì che la conferenza dei parlamenti regionali sia considerata ad alto livello e venga tenuta in considerazione in sede di Commissione europea, di Parlamento europeo e di Comitato delle regioni che sono le istituzioni più importanti che sono presenti a Bruxelles. Ma soprattutto per la ricaduta che vi deve necessariamente essere sulla nostra regione che deve sapere interpretare questo ruolo di protagonista. È la prima volta che capita all'Abruzzo un presidente del Parlamento abruzzese ed è soltanto la terza volta nel corso di tutti questi anni che capita ad un italiano. Quindi io di questo sono ovviamente molto orgoglioso, soprattutto in quanto abruzzese. Grazie.